Buongiorno Buongiorno Posso esserle utile? Sì, senta signorina, poco fa è venuta qui una ragazza che indossava una specie di giacca militare Sì, era qui prima, ho parlato con lei della missione alla compagnia stabile di balletti Buongiorno Buongiorno La birra Un'aranciata per favore Mister Bradley per favore Nicardi Un caffè, grazie Larry Ehi Bene Bene Fai ancora parte di quella commissione? Ho bisogno di un favore per un'amica importante Buongiorno 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 Grazie a tutti